Sono stati 1.023 nuovi contagi accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri e nonostante nel fine settimana sia stato effettuato un considerevole numero di tamponi, ossia 8.458. 27 sono stati invece i decessi. Con il bollettino di oggi pomeriggio, nell'isola adesso il numero degli attuali positivi arriva a 21.939, di cui 20.449 in isolamento domiciliare. Sono 1.303 i ricoverati in ospedale con sintomi, ieri erano 1.250 e 187 di questi gravi sono in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri. Il fine settimana appena trascorso è stato quello del covid screening. In due giorni nell'isola sono stati effettuati 30.620 tamponi rapidi nei drive-in allestiti dalla regione in 30 città dell'isola. Sono stati individuati 930 positivi. Intanto, secondo una proiezione di Giuseppe Anatoli, statistico e data manager dell'unità di medicina interna dell'ospedale civico di Palermo, fra un mese esatto, ossia l'8 dicembre, in Sicilia il numero di ospedalizzati covid sfiorerà a quota 3.300 e i ricoverati in terapia intensiva saranno nell'ordine dei 470. La curva continua ad avere un andamento esponenziale, spiega Anatoli, senza alcun accenno di rallentamento.